E il Sharawi, Pellegrini, Ebraham dentro per il Sharawi, e il Sharawi si salva il Lecce, calcio d'angolo, qui parata da parte di Falcone. Bello il tocco di Ebraham, interviene benissimo, la difesa del Lecce, sembrava tutto fatto per il gol dell'1-1. Gioca l'indietro, Ibanez, Smalling. Balla morbida in profondità per Ebraham, Umtiti, poi arriva Juhlman, Pellegrini, per Di Bala, cerca spazio per il tiro, la fa passare, Ebraham! Super, parata di Falcone, che mette in calcio d'angolo. La presa a mano aperta, il portiere del Lecce. Qui ne vediamo tutto, Ebraham, servito da Di Bala, che parata di Falcone. Siamo a metà dei tre di recupero. Mancini. Ebraham mette giù, prova a entrare in aria, bello il numero! Ancora Falcone a salvare la porta del Lecce. Falcone si è liberato in una frazione di secondo, Tammy Abraham ha provato a piazzarla, Falcone gli ha detto ancora di no. Eccolo qui, hop hop, gioco di gambe di Tammy Abraham. Bravo lui, bravissimo anche Falcone a neutralizzare la conclusione del 9 della Roma. Metta giù il pallone Pellegrini, sarà lui ad incaricarsi di battere questo calcio di punizione. Parte il 7, pallone al centro aria, Ebraham, colpo di testa! Fola ancora Falcone! E ancora una volta dice di no al 9 della Roma. E' una sfida nella sfida, ormai quella tra Ebraham e Falcone. E' una sfida, ommai quella tra Ebraham e Falcone. E' una sfida, Ormai etc. Grazie a tutti.